Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Il conduttore Gerry Scotti ha avuto per anni una moglie super famosa e conosciuta dal pubblico, ecco di chi si tratta Uno dei conduttori che ha dimostrato sin dall'inizio della sua carriera la sua grande professionalità ed edizione al mondo dello spettacolo, tanto da essere definito dagli italiani l'erede di Mike Bongiorno, è lui Gerry Scotti Una carriera accostellata di successi televisivi che lo hanno portato ad essere uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano Tra le trasmissioni da lui condotte possiamo citare Strescia la notizia, The Wall, Passaparola, Chi vuole essere milionario e caduta libera Per anni, egli è stato sposato con un'attrice molto conosciuta Sin dai suoi esordi, Gerry ha sempre dimostrato che il mondo dello spettacolo fosse la sua unica e vera essenza di vita Egli ha cominciato a fine anni 70 a lavorare in alcuni emittenti radiofoniche locali come Radio Interland Milano 2, passando a Radio Milano International dedicandosi prevalentemente ad alcune rubriche come il Punta Spiglia e il Mercatino delle Pulci È stato proprio Claudio Cecchietto a captare il talento dell'uomo chiedendo di diventare prima voce di radio DJ Quest'ultimo, inoltre, ha convinto il buon Gerry a rifiutare una grossa proposta all'estero In una intervista il conduttore ha confessato come l'hanno presa i suoi genitori alla notizia che l'uomo volesse fare spettacolo Avevo un ottimo stipendio, un sacco di benefit, persino il dentista pagato Così, quando disse a casa che volevo darmi allo spettacolo, per poco a mia mamma non prendeva un coccolone Punto Una carriera costellata di successi, il primo in assoluto che si associa alla sua carriera televisiva è il famoso programma dedicato ai videoclip musicali chiamato DJ Television a cui fanno seguito campionissimo La sai l'ultima? Passaparola, chi vuole essere milionario fino a Italia's got talent e caduta libera Punto Per anni Gerry è stato sposato con un'attrice davvero conosciuta e famosa Gerry Scotti e il matrimonio con un'attrice famosa Punto Il conduttore più apprezzato dagli italiani per diversi anni ha avuto un vero e proprio matrimonio pubblico con una delle attrici più brave e apprezzate nel mondo dello spettacolo Ovviamente intendiamo Maria Elena Monti, la sua pseudomoglie con cui ha interpretato la sua, finalmente sua Punto Proprio l'attrice, ospite al noto programma Vieni da me, ha rivelato un aneddoto circa e un ruolo interpretato al fianco dell'amico e collega Gerry Scotti Ella, nel dettaglio avrebbe confessato, per tutti sono davvero la moglie di Gerry Scotti. Ogni giorno, ancora oggi, la gente mi ferma e mi chiede come sta Gerry? Proprio come se fosse mio marito Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video